Giovedì 8 novembre a Siena, qui al San Nicolò, si è tenuta una tavola rotonda volta ad affrontare i temi concernenti comunicazione sociale e cambiamento. L'evento è stato organizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive in collaborazione con ADE. Hanno partecipato docenti, creativi, rappresentanti di organizzazioni no profit, pubblicitari ed esperti di comunicazione. L'obiettivo comune è stato quello di osservare come è cambiata la pubblicità nel tempo, analizzando e confrontando campagne pubblicitarie di ieri e di oggi. I relatori hanno inoltre detto che la pubblicità deve parlare alle persone, interpretando i cambiamenti sociali e anticipando le tendenze e andando di pari passo con l'evoluzione dei media. Gli interventi sono stati accompagnati da proiezioni di spot e campagne pubblicitarie. Noi studenti abbiamo contribuito, dando vita ad una diretta Twitter, per dare ancora più risonanza alla tavola rotonda e permettere alle persone non presenti in aula di seguire comunque l'intervento. Passiamo ora la parola alla professoressa Ceriani. L'iniziativa Society and Social, presente negli spazi del Tattichiano di San Nicolò, del Città di Siena, è dedicata alla comunicazione sociale. Cioè la comunicazione è dedicata a grandi temi, a grandi valori, a grandi problematiche che coinvolgono e attraversano tutti i paesi del mondo. Ma soprattutto direi si ritroveranno delle grandi idee di comunicazione, questo è forse l'interesse principale. Comunicazione sociale è una comunicazione difficile, comunicazione problematica, che parte da un problema per l'appunto, una grande negatività, per la quale si cerca di individuare delle soluzioni e si chiede a un destinatario potenziale, che è il fruttore della mostra, che è il cittadino, che è il individuo consapevole, di reagire, di passare all'azione. Sarà possibile visitare la mostra Society and Social al terzo piano del San Nicolò. Potrete votare la vostra campagna preferita, commentarla attaccandoci dei posti, o lasciando un commento sul guestbook. Ma ricordate, avete tempo solo fino al 22 novembre. Un saluto dal San Nicolò, da Giulia e Gianluca. Ci vediamo al prossimo evento. Ciao! Ciao!